Scusate, mi era Simone. Come se la cava? Voglio dire, con tutto quello che gli è successo. Gestisce l'agenzia da solo? Sì, sì. È sotto pressione. Si ritrova a gestire affari di grande portata. Diciamo che non è più come prima. Da quanto siete sposati? Oh, ecco. Lei non era ancora nata. Non esageriamo. Voi vi amate? Sì, ci amiamo? Sì, era per chiedere. Sembra assurda la cosa. Ma certo che ci amiamo. Ci amiamo come due persone che si amano da molto tempo. E ballate? Voi due insieme ballate?